Forso un giorno, ma non mi mossi, perso i miei pensieri, non conoscevo la tua luce. Tu sei una gemma nella roccia, una lontagna che non so sapere, cinta di vostri che non so sfidare l'amore. Grazie a tutti. Una serata dove per forza abbiamo dovuto camminare anche noi. Perché si tratta di un cammino che dal basso va verso la felicità e la felicità è incontrare l'amore. Ma la cosa che vorrei dirvi, come una bella città, ma soprattutto la mezzia può veramente crescere, svilupparsi, se c'è questa coralità, come io ho visto in modo incantevole stessi. La coralità che voi avete manifestato, questa grande sinodalità, questo grande essere insieme, è l'unica premessa seria perché la nostra città possa veramente svoltare. Oggi. Grazie. 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 Grazie.